Ma il turchesterone nel 2024 ha senso di essere preso da un punto di vista di migliori prestazioni sportive e di aumento di massa muscolare e ho detto, siccome sono due anni che non ne vado a parlare, facciamoci un bel video, andiamo a fare un bel punto della situazione andiamo a parlare di dosaggi, di potenziali effetti collaterali, di potenziali problematiche e di potenziali benefici in modo tale che anche per quest'anno l'argomento ce lo siamo tolti Ora, il turchesterone fa parte della famiglia degli ecdisteroidi, ovvero gli ormoni che sono stati trovati negli insetti e in realtà anche in alcune piante dove vengono utilizzati di solito come meccanismo di protezione dagli insetti che vanno ad attaccare le piante e sono ormoni con una struttura simile a quelli androgenici degli umani, quindi come per esempio il tessosterone Ora, negli integratori di solito, ben che si possa trovare sia gli ecdisteroidi che il turchesterone comunque sono di origine di solito vegetale, quindi non presi dagli insetti ma presi dalle piante come per esempio gli spinaci, ma nonostante siano simili, ok, come ho detto agli ormoni androgenici, non sono identici e per questo motivo, stando alle informazioni odierne, gli ecdisteroidi non si vanno a legare ai recettori androgenici quindi quelli dove per esempio si lega il tessosterone e questo sembrerebbe essere interessante proprio perché non ci dovrebbe andare a dare gli effetti collaterali che invece potenzialmente riscontreremmo qualora per esempio andassimo ad utilizzare del tessosterone, quindi esogeno, quindi presi dall'esterno per esempio attraverso delle iniezioni o per esempio il tessosterone sublinguale di cui abbiamo parlato recentemente tra l'altro non mi sono ancora presentato, ciao a piacere, il mio nome è Edoardo Baldini questo è il mio canale, sono qua da lontano 2016 e sono praticamente una delle pochissime persone a non aver mai fatto marchetta a nessun brand di integrazione, a non aver mai proposto dei codici sconto non aver mai ricevuto promozioni da un brand per dirti compra quell'integratore o compra l'altro e sono qua praticamente a registrare ad un orario folle perché è l'unico orario in cui non fa troppo caldo mentre qua, ok, come si vede sta avvenendo una festa e comunque ritornando a noi, non si sa ancora bene quali siano i meccanismi o il meccanismo d'azione degli ecdi steroidi negli umani quello che però sappiamo è che ha interessato molte persone che tendenzialmente ci dovrebbe andare a dare degli effetti molto simili a quelli degli androgeni quindi andare a prendere per esempio del tessosterone senza però gli effetti collaterali e c'è da dire che ci sono diversi campi di studio degli ecdi steroidi come per esempio gli effetti di antiobesità dove per esempio si è visto non andare a far accumulare grasso e andare ad abbassare i livelli di zuccheri nel sangue a livelli tali come potrebbe andare a fare la metformina o la berberina di cui abbiamo avuto modo di parlare in passato si sono visti benefici anche in termini di contrasto al cancro e alla proliferazione del cancro si sono visti per esempio dei benefici in donne in menopausa in termini di contrasto di accumulo di grasso viscerale nonna e vi sono anche degli studi in campo di benefici respiratori di malattie autoimmuni e di salute sessuale e fra l'altro se non ti sei ancora iscritto e compreso di che pesantezza di informazioni andiamo a parlare informazioni che difficilmente vai a trovare e non è ancora visto quello di cui andremo a parlare quindi se ti iscrivi così non te li perdi e youtube ti consiglia i video e se una volta finito di vedere il video vorrai smettere di buttare via soldi in integratori inutili c'è la mia guida la rivoluzione sull'integrazione che sono 350 pagine in formato digitale perché trovate ad aggiornare una volta al mese con tutte le informazioni e all'interno vado a darti esattamente non è una guida teorica è una guida pratica con tutti gli stack pronti all'utilizzo che tu la prendi oggi stesso parti e ti do anche la lista delle marche di integrazione che io vado ad analizzare che ritengo valide senza conflitti di interesse così tu hai già tutto hai le istruzioni su come usarli hai le marche di integrazione valide e sicure e parti con piacere oltre a ciò come se non bastasse hai il mio supporto email per tutte le domande a vita gli aggiornamenti sono gratuiti a vita paghi una volta e non paghi più il link te lo lascio giù in descrizione e nei commenti e ovviamente in termini di studi ritornando a noi chiaramente quello che interessa maggiormente è quello in termini di aumento di massa muscolare e di miglioramento delle prestazioni e per esempio abbiamo uno studio sugli umani dove ci sono state analizzate 46 persone giovani ok dove si è visto un incremento della massa muscolare e della forza rispetto al gruppo che non andava ad utilizzare niente gli altri studi invece sul recupero sull'endurance sulla forza sono stati condotti invece sui roditori e purtroppo quindi qui non vi è sempre una diretta trasportabilità dei benefici sui roditori o addirittura negli studi fatti in laboratorio direttamente poi sugli umani e questa è una cosa importante perché? perché la prima problematica che abbiamo quando parliamo di turkesterone è proprio la tematica del fatto che mancano studi su umani perché gli studi su roditori o in laboratorio ci possono dare un primo spunto ci possono dire ehi guarda anche questa cosa qua hai riscontrato benefici? andiamoci a vedere anche se avviene sugli umani ma manca questo passaggio mancano abbastanza studi sugli esseri umani uno per quantificare i benefici perché cioè stiamo parlando di mezzo chilo in un anno beh probabilmente non ha senso stiamo parlando di un chilo al mese e allora fammi un attimo parlare oltre a ciò non sappiamo gli effetti collaterali nel senso che ad oggi sembrerebbe essere una sostanza abbastanza sicura abbiamo uno studio dove venivano utilizzati 800 mg per 10 settimane in soggetti sani e non sono stati riscontrati effetti di in termini di tossicità o altro e anche negli studi sui conigli non sono stati riscontrati degli effetti collaterali fatto sta che ad oggi non sappiamo il giusto dosaggio anche se a breve parleremo di dosaggio ma non sappiamo il dosaggio giusto e non sappiamo il dosaggio massimo e il dosaggio sicuro perché magari c'è un dosaggio giusto per i benefici ma non giusto da un punto di vista di sicurezza e poi diciamo c'è anche un terzo problema un terzo problema veramente rilevante ovvero il fatto che la vendita non è regolata nel senso che praticamente nel composto un'azienda ci può andare a mettere tutto quello che vuole quando ho lanciato i miei due integratori scientifici il multivitaminico senza stronzate l'antiossidante senza stronzate vi ho parlato ok della fase produttiva e ho detto che comunque in Italia un po' di controllo c'è ma anche in Italia un brand che volesse produrre un qualcosa di veramente bassa qualità o addirittura a livello di truffa potrebbe rischiarsela e probabilmente non verrebbe beccato ecco immaginatevi che all'estero questa situazione è ancora peggiore in Italia da un punto di vista di campo integrazione di campo food quindi del cibo lì siamo proprio ai massimi livelli di controllo infatti in Italia siamo molto più controllati ma anche in campo integrazione un pelino rispetto al resto del mondo lo siamo ma tenete in considerazione che quando vengono comprati integratori al di fuori fate conto che praticamente un brand può prendere una formulazione metterla lì, farci un'etichetta e vendervelo tranquillamente anche perché tanto lo sappiamo i prodotti venduti dall'estero arrivano tranquillamente in Italia il problema qual è? è che stando proprio alle informazioni scientifiche è stato rilevato che nella maggior parte dei composti di turchesterone e di ecdi steroidi non vi è la quantitativo garantito sull'etichetta nel senso che vi dicono che ci sono x milligrammi di principio attivo e poi alla fine voi le andate a prendere e ne trovate meno nessuno controlla e quindi poi tu prendi una fregatura e non sai effettivamente quello che stai andando a comprare e attenzione stando alle informazioni scientifiche i benefici risultano essere dose dipendente quindi se tu pensi di starne prendendo 800 milligrammi e in realtà poi alla fine te ne prendi 200 milligrammi fa tutta la differenza del mondo infatti per esempio si è visto che un primo dosaggio una prima idea di dosaggio sembrerebbe essere di 5 milligrammi per chilo corporeo anche se dosaggi maggiori sembrerebbe andare a portare più benefici quindi se una persona pesa 80 chili per 5 vado ad assumere 400 milligrammi ecco per esempio in uno studio si è visto che andare a prendere 200 milligrammi non va a portare benefici quindi capisci che se tu pensi di prendere 400 milligrammi te ne ritrovi 200 milligrammi stai buttando via soldi senza ottenere nemmeno uno dei potenziali benefici poi non è nemmeno garantito che vi siano dei benefici ma così proprio zero e quindi capisci quale possa essere il potenziale problema oltre a ciò sembrerebbe che gli ecdi steroidi abbiano un tasso di assorbimento veramente basso e quindi è necessario che nella formulazione vi sia un modo per veicolare il principio attivo buono per esempio quando abbiamo parlato di vitamina C quando ho lanciato l'antiossidante senza stronzate abbiamo visto come per esempio prendere la vitamina C liposomiale che veicola o che è il principio attivo della vitamina C vada ad incrementare l'assorbimento ecco è necessario che venga fatto uno studio anche per quanto riguarda gli ecdi steroidi in modo tale che vengano assorbiti nel modo migliore e molto spesso qui magari nell'etichetta viene emesso che vanno a farlo ma tu non hai la garanzia perché nessuno controlla e quindi il rischio di prendere una sciofeca con meno principio attivo e che poi il corpo non è nemmeno in grado di assorbire bene c'è e rimane sempre perché finché non avremo formulazioni certe i brand che rimangono a produrre questi composti nel 99% dei casi vogliono cavalcare l'onda venderti prodotti sottodosati a prezzi sovradimensionati quindi fate attenzione perché il rischio di prendere una fregatura è dietro l'angolo anche perché tenete in considerazione che ci può essere il potenziale rischio di contaminazione nel senso che se non vi sono controlli da laboratori terzi come per esempio faccio io con i miei integratori dove mando i miei composti ad essere analizzati da laboratori terzi senza conflitti di interesse che mi ridicano che all'interno non vi siano composti nocivi ecco che un brand che non è controllato può benissimo produrre dei composti che magari all'interno contenga metalli pesanti perché comunque quando parliamo di piante ci possono essere dei metalli pesanti l'abbiamo già visto in altri composti e quindi potenzialmente non solo non è efficace ma potenzialmente anche dannoso per la salute perché se ti prendi dei metalli pesanti bene non ti fai se te li prendi tutti i giorni peggio ancora il mio consiglio è quello che se una persona vuole puntare sugli ecdi steroidi valuti l'alimentazione fin quando non avremo maggiori studi che ti possano dire guarda utilizza questo dosaggio utilizza queste modalità d'assunzione non utilizzarlo per più di x settimane e due alimenti ricchi di ecdi steroidi sono la quinoa e gli spinaci aggiungi nella tua alimentazione vuoi una fonte di carboidrati? usa la quinoa vuoi una fonte di verdura? usa gli spinaci otterrai un po' degli ecdi steroidi ho già fatto un video su questa tematica qua qualora tu volessi andare a recuperare e poi quando usciranno degli argomenti non aver paura sarò il primo a fare un nuovo avviso aggiornamento quindi ad oggi nel 2024 rimane un qualcosa che ancora non consiglio di andare a prendere anche perché nelle mie analisi che vado a fare per i membri della rivoluzione sull'integrazione mi capita di parlare con brand che vanno a produrre composti di ecdi steroidi e benché mi diano informazioni e benché possano essere plausibili la garanzia che siano prodotti di qualità purtroppo ad oggi non l'abbiamo anche perché non sappiamo come identificare un prodotto di qualità al 100% in campo di turcesterone ovviamente detto ciò se vuoi smettere di buttare via soldi in integratori inutili c'è la rivoluzione sull'integrazione ti spiego tutti i mix di integratori provati per aumentare la massa muscolare perdere grasso migliorare le prestazioni sportive di endurance e non quindi anche pesistica parliamo di tutto ventenne, quarantenne, sessantenne uomo, donna, natural e non andiamo a parlare di salute a 360 gradi tutto quello che ti puoi immaginare studio, libido, tessosterone parliamo di tutto blocco degli estrogeni letteralmente tutto oltre a ciò vado a fornire una lista in continuo aggiornamento dove c'è un aggiornamento minimo ogni mese della lista delle marche di integrazione con i composti che vado ad analizzare che abbiano superato le linee guida scientifiche che siano sicuri che non ti facciano male oltre a ciò tutti gli aggiornamenti sono gratis a vita quindi paghi una volta e poi non paghi più e hai il mio supporto email a vita così tutte le domande tutti i dubbi tutte le togli e non devi più stare a pensare a leggo i blog leggo i post su facebook su instagram no hai già il mio contatto ti dico cosa gli studi scientifici ti dicano e tu in 10 minuti hai risolto la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti se hai delle domande sui miei percorsi sui miei pacchetti su come funzionasse scrivi a questo email o scrivi a questo numero whatsapp qui risponderà alessandro il mio assistente o maddalena tutte le domande del caso potete scrivere anche a loro qualora avesse delle domande sul pacchetto personalizzato dove vado a fare tutto io per te senza che tu ti debba stare a leggere la guida noi come sempre ci vediamo tutti c'è una luna sempre su questo canale ciao a tutti peace